Ritornare a giocare qui sarebbe un sogno da coltivare. Il sogno di tutti noi è ovviamente tra qualche anno che qualche imprenditore si prenda carico e rimettere a posto lo stadio storico. Il Padova che punta alla promozione in Serie B sogna un giorno di tornare anche a casa, al Silvio Appiani, nel cuore della città, a due passi dalla Basilica di Sant'Antonio e dal Prato della Valle, in quella che fu la leggendaria Fossa dei Leoni, lo stadio del grande El Paron Nereo Rocco e dove Alessandro Del Piero segnò il suo primo gol tra i professionisti. Personalmente ho passato otto anni in calcio Padova, sei anni l'ho passato qui giocando alla Piani, quindi siamo riusciti ad arrivare alla Serie A proprio nel 94. L'unico ramarico per quanto mi riguarda è quello di non aver poi dopo giocato neanche un anno, dopo tanti sacrifici non potendo neanche giocare un anno in Serie A, ma essendo passato subito all'Euganio. Chiuso nel 1994, dopo 70 anni, lo stadio Appiani, intitolato alla memoria del giocatore biancoscudato morto nel 1915 sul Carso a soli 21 anni, è interessato da un progetto di ristrutturazione, grazie anche a dei finanziamenti di un gruppo di imprenditori locali. L'obiettivo è quello di farne uno stadio all'inglese senza barriere, traspalti e campo. La tribuna centrale è stata già completata e può contenere 1400 spettatori. L'impianto è già agibile, per ora ospita le gare delle giovanili e qualche amichevole, ma il sogno è quello di completarlo. Il mio obiettivo è stato quello di riportare a far giocare qui i giovani perché sentissero il profumo del calcio vero e soprattutto a farli rivivere un attimino quelle che sono le emozioni che un campo di questo tipo può dare. Mi sembra che ci siamo riusciti perché le quattro squadre del settore giovanile che giocano qua e anche per quelli che vengono da fuori è veramente un'emozione giocarci sopra. Grazie.